È stata ieri una giornata storica, straordinaria. Io ho vissuto dall'interno la diretta, la maratona Scudetto di Radio Kiss Kiss con Walter De Maggio, con Carlo Albino. È stata una giornata straordinaria, un'esplosione di gioia di un popolo in tutto il mondo. Abbiamo visto la potenza della rete, ma due cose dobbiamo tenerci di questo straordinario successo. Il Napoli cammina da solo, non c'è più Maradona, non c'è più il papà o la mamma che lo deve prendere e portare per mano, il Napoli ce la fa da solo, cammina da solo, vince da solo, resta l'amore per Maradona, resta il mito di Maradona, ma il Napoli si è emancipato. La seconda cosa, evviva De Laurentiis per questo, evviva Spalletti per questo, è la vittoria e figlia della programmazione, una parola che è la lacuna storica di Napoli. Il Napoli che vince, che vince programmando, che vince con l'ordine, con l'organizzazione, con le idee, vincente nella sua strategia di base è quello che vogliamo che la città, che il popolo napoletano assorba dall'esempio straordinario di questa squadra. Viva Napoli!